Andata? Sì! Andi! Non vuole mai, non vuole mai! Addio! Allora! E' giusta? Sì! E allora è stato chiaro, io sono capace! Adesso lo sta la vita! C'è una tutta Italia, buca della porta! Che fanno le macchine! Guarda quanto investe con noi! Quindi, questo Turner City ci è piaciuto? Eh, meno che poi il parcheggio non è che si trova proprio lì sotto! Sì! Vedi già delle popolette! Troviamolo, troviamo! Qua non so dove bisogna andare però! Mi dico che c'è una botella! Posso andare di là? Sì! Continua su via dei Cerchissi! No, continua, non ti smuove! Ma dove siamo qua? Al quota, al Circo Massimo! Sì! 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 Cioè, non gli sei dato quello che ti portano al centro proprio ma non ci si potrà andare! E male che vada perché chiamo una ZTL! Eh, questi ti lavano il vetro come nulla! No, a me che non mi lavi niente! Ah, ma non l'accordo! Esatto! Gesù Santo sta accanto nel parabéns! Ehi! Sì! Ehi! 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 Mi sa che non lo succede! No! 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 Ehi! No! 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 tra 600 metri gira a sinistra su via dell'era massima di Ecole arriva una zona a traffico limitato però non lo dice no se non c'è scritto non è ma proprio in centro ci sta portando pieno vedrai se siamo in una zona di psicoterapia ormai ci siamo oh qui c'è anche l'università, c'è anche i salvieti di me guarda che il lavoro perché è finito qui ci vuol che ci apri un garage per mettere una macchina via forse vedremo a Martina se si fanno entrare guarda qui guarda qui sotto guarda qui perché cantano qua se se la batte di più no ma bisogna andare là ancora tanto ma non c'è sempre un chilometro ma non c'è sempre un chilometro ah questo è attraverso la prossima giro a sinistra su via dell'era massima di Ecole gira a sinistra su via della greca i fatti Gira a destra su Via della Greca, quindi gira a destra su Lugotevere Aventino. E' ora? Non lo so. Eccoci. 20? Sì. 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 Eh sì, anche noi abbiamo imbrattato questo. Ho accelerato anche, eh. Siamo sempre. Sì. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.